Dopo i baciotti, Giovani e Amaranto chiudono l'esperienza mini-basket con un altro trofeo. Un percorso netto fatto di 5 vittorie in altrettante partite ha portato infatti gli esordienti Nova Vertasba alla vittoria del trofeo Masaccio organizzato dalla CMB Valdarno. Un torneo molto prestigioso con tante squadre straniere oltre ad agguerrite formazioni provenienti da tutta Italia. Oltre alla parte strettamente sportiva, suggestiva la sfilata in centro a San Giovanni di tutte le formazioni partecipanti e da ricordare la premiazione finale al Palagalli con tutte le squadre schierate ad applaudire giovani cestisti e Amaranto che si sono portati a casa il super trofeo messo in palio dalla società organizzatrice. Un'esperienza che i ragazzi della SBA ricorderanno a lungo per la qualità degli avversari battuti per l'esperienza fatta. Con questa bellissima esperienza si chiude così la carriera minibasket della squadra che nella prossima stagione entrerà nel mondo del settore giovanile partendo dalla categoria under 13.